A più di un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria ci troviamo purtroppo davanti a una nuova ondata di contagi. Nell'ultima settimana si sono registrate più di 150.000 nuove infezioni a fronte delle 130.000, quasi 131.000 della settimana precedente. Ora l'incremento dei ricoverati positivi al virus è stato di quasi 5.000 persone. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è cresciuto di oltre 650 unità. Questi dati, queste cifre, ci impongono la massima cautela. Dobbiamo limitare, ovviamente, il numero dei morti e impedire la saturazione delle strutture sanitarie. Il ricordo di quel che è accaduto la scorsa primavera è vivo e faremo di tutto per impedire che possa ripetersi. Sulla base dell'evidenza scientifica, il Governo ha adottato oggi misure restrittive che abbiamo giudicato adeguate e proporzionate. Lo abbiamo fatto con un decreto legge che vedrà il Parlamento pienamente coinvolto nella discussione. Le nostre scelte sono state condivise più volte nella conferenza Stato-Regioni, nello spirito di massima collaborazione tra i diversi livelli dell'amministrazione. È importante che questo avvenga perché senza una collaborazione si perde entusiasmo in questa, che è una battaglia comune, una battaglia collettiva. L'ultima riunione con le Regioni è avvenuta stamattina, proprio prima del Consiglio dei Ministri. A questa riunione ha partecipato il Ministro Speranza, che è qui con noi oggi. Qualche giorno fa ho ringraziato gli italiani per la loro infinita pazienza. Sono consapevole che le misure di oggi avranno conseguenze sull'istruzione dei figli, sull'economia, ma anche sullo stato psicologico di noi tutti. Il Presidente della Croce Rossa ricordava prima la situazione di difficoltà psicologica che incontrano alcune persone, le persone più anziane, ma in realtà credo che sia una difficoltà psicologica di tutti, di tutti coloro che sono spesso, soprattutto ovviamente delle persone sole, che rimangono oggi ancora più sole e che hanno difficoltà a incontrare, a vedere le persone più care. Queste misure sono necessarie per evitare un peggioramento che renderebbe inevitabili provvedimenti ancora più stringenti. Ma a queste misure si accompagna l'azione di Governo a sostegno di famiglie e imprese e l'accelerazione della campagna vaccinale che da sola dà speranza di uscita dalla pandemia. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso già nel decreto legge di oggi di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l'accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo babysitting. Il decreto che comprende tutte le altre misure di sostegno all'economia è previsto per la settimana prossima. I 32 miliardi già autorizzati sono interamente impegnati. Ma non basta. Ho intenzione di proporre al Parlamento, in occasione della presentazione del documento di Economia e Finanza, un nuovo scostamento di bilancio. Grazie. 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 Grazie.